Buon mestolo! Ho fermato il gioco, mi soppresso nello zolo, devo scegliere proprio qua, la mia mamma e mio papà, ma un bestione! Il leone! E' pesante! L' elefante! E' cretina! La gallina! Quando gioca! Siamo all'oca! Allo zolo! Ahhhh! Con i gatto! Ahhhh! C'è il cane! Ohhhh! Rho! 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 Ah ma... eh ma! E' il doppio! Yowia! Gattietto su a Marky! Ah... Te troverai! Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come vai Gianni? Eh, male lo sai. Eh, lo so, su, forza, fatti fuori, ciao eh. Ma Lillo dov'è? Eh, no, è la. Vieni con me, dai, vieni con me a faccio l'azione, ciao. Va bene, ok, ciao. Guardate, facciamo coltone. Si Lillo, poi ti devo raccontare una cosa che mi è successa ieri sera eh. Oh, fai piano, mi fai andare a sbattare Lillo. Mi fai andare a sbattare Lillo, Lillo, lasciami Lillo. Facci vedere il tuo ministero, brum, tutte le cosce chiude, due culoni, chiappone, chi toccava un monte di donne. Insomma, un casino, non ci ho capito niente in questo gioco. A un certo punto, Lillo, siamo scesi, siamo scesi, sono rimasto solo con cane e arriva una macchina, Lillo. Oh, è scesa la donna, ma la donna più bella, la più bella donna che io abbia mai visto nella mia vita. E lo sa che è successo? Si è fermata. Mi ha guardato, Lillo, mi ha guardato. Oh, mi ha guardato così, mi si è avvicinata e mi ha detto sei meraviglioso a me e, blum, è caduta ai miei piedi. Ha fatto un amore? No. No, è svenuta, è svenuta, è svenuta, ma guarda che era proprio la donna più bella, mi ha guardato come se io, Lillo, fossi l'uomo più bello del mondo. Una donna intelligente, una donna di gusto, molto raffinata. e a un certo punto poi mi si è riavvicinata come se mi volesse baciare, mi ha quasi toccato, mi ha detto, mi ha detto lei è un sogno, un sogno a me e io sono tutto scombussolato. Lillo, Lillo, oh, no! I dolci no, c'hai il diabete, te lo vuoi mettere in testa che c'hai il diabete e non devi mangiare i dolci, c'è lo zucchero, si può morire. Eh? Solo due. Solo due, solo due, col diabete non se ne mangia neanche uno e poi costano troppo. Ecco la frutta, la frutta, quella non fa male al diabete, però con il gusto stesso. Vediamo. Bisognerebbe trovare il sistema di compagalla, eh? Aspetta qui, Lillo, aspetta che forse vediamo se c'è quello. Sì, aspetta, Lillo, Lillo. Buongiorno, scusi tanto, eh, volevo sapere quanto vengono quelle mele lassù e quelle pere là troppo, troppo, eh, troppo, scusi. Mi sono aumentate, troppo cari, casomai ripasso, eh, grazie a te, scusi. Lillo, troppo cari, vieni. Arrivederci, grazie, grazie. Se si vede un sacco, una a te e una a me, no, anzi, una e mezzo a me e mezzo a te. C'hai diabete, non devi mangiare troppo, ma hai capito? Se si vede l'ottolano, ecco qua la mezza di un sacco.